perché non ci beviamo un paio di drink come se niente fosse e ce ne siamo tranquilli coraggio dammi lo scotch certo perché no ok non ti morda mica ci mancherebbe altro ho sentito che tu e frank non lavorate più insieme è vero io dico che è più facile no è più semplice adesso grazie a una terra che offre grandi possibilità a te può darsi ti piacciono i bambini che cosa i figli come li chiami i bambini certo perché no se c'è la bambinaia bene piacciono anche a me su sé maschi femmine come vengono a me guarda che frank può tornare da un momento all'altro vieni qui dai su andiamo e siediti qui ti voglio parlare avanti siedi te l'ho detto mica ti mordano allora la storia è questa io vengo dalle funie questo lo so non ho istruzione ma va bene così ho vissuto per le strade sono venuto a contatto con la gente giusta e con la donna adatta non mi ferma più niente potrei arrivare sulla cima comunque io ti volevo dire solo questo che che tu mi piace dalla prima volta che ho messo gli occhi su di te ho detto quella quella è una tigre e deve essere mia insomma io voglio che mi sposi e voglio che tu sia la madre dei miei figli come io sposerei te esatto e non ci pensi a frankton come lamenti con frank frank non dura mica tanto ormai è finito tu intanto pensaci d'accordo voglio che ci pensi bene sopra ok adesso vado stammi bene grazie a tutti grazie a tutti